Oh, cazzo, ci sono sfide? Ah, sì, quella dell'evento. Questi vabbè, ormai, ho fatto tutto. Manca le ultime due. Pistola ed MC. Oh, come lo fregano, bene. Abbi fiducia nella forza della natura, e poi nella tua. Eh, strano, è un preme noti. È ora di pace per la scienza. Per la scienza. Per la scienza. Vediamo questi diamanti. Dovremmo afferrare lì. Ci divertiremo. Ci divertiremo? Pfff. Ha, 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 ha. Anche è simpatico, alcune volte. Ambaratacci, ciccocco. Andiamo lì? Mamma mia, questi box. L'ho chiamato. No, ma va, che sfortuna. Ma è uscerto. Ma perché con P3V ci arriviamo? Oh Dio Scusa amica Non volevo Amico Perché amico Mamma mia E se questo cambia tutto Minchia Qui c'è un caricatore leggero esteso Livello 2 Che usano questi Leggeri resanti Leggeri niente Un caricatore leggero esteso Livello 2 Qui c'è un aboc Altri sono già stati qui Siamo tutti sparpagliati tesorini Non abbiate paura di avvicinarvi Non mordo mica No Non mordo Ho appena mangiato Andiamo qui amico Scudo Ero qui Qui c'è un EMLOK Sto controllando i tinture Oh yeah Siamo culoni Lontano E rompi palle Andiamo qui Qui c'è un kit medico L'anello è lontano Mi stanno sparando Vado Attenzione una granata Lancio il trampolino Caricamento a scudi Dai Dai Ehi Vabbè Eh vabbè Bravo Bluedown Grande Grande Già ho ottenuto per i cazzi suoi Perché sempre è un pro Poi arriva Bluedown Che è arrivata E arriva proprio adesso Bravo Bluedown Bravo È l'unica roba che potresti fare Grande Oh Sei proprio un giocatore di Xbox Guarda Mamma mia Mamma mia Dovebbe esploderti con l'Xbox Dovebbe saltare per aria Figa Mi domando come cazzo Sei arrivato a Diamante Un ticiano portato No eh No no Proprio zero Teste di cazzo Porco Dio Già Ho ottenuto un coglione Figa ma anche te però Perché sei molto sveglia Ah Dovevi fare Lifeline Potrei anche usarla Teste di cazzo Non è male come personale Ah Ah Vedo il negozio Magari ci vuol cosi nuovo Uuuuuh Nooo Che bella che è Che bella che devastazione Questo non è ancora cambiato Nove ore inizio Ciao Che bella che devastazione Ah Stavo dicendo via gli altri O che cazzo sono Stavo dicendo via gli altri Questa me la potrei anche togliere Questa me la potrei anche togliere Questa me fa schifo Ma vabbè Ma che sembra me Vulcano è bella Quella rosso lì Anche l'altra Quella azzura E' carina Vabbè Vediamo adesso Ci troviamo Luna Spider Cayenne Ok Questo c'è la Porsche Bravo ragazzo Quella Porsche Eh mi spiace Cayenne Bravo Speedfinder Speedfinder Oggi sarà il nostro giorno Combattiamo con tutte le nostre forze Oggi sarà il nostro giorno Questo è il tuo campione Ehi prova a spostarmi Sarà divertente Cazzo è un Predator Campioni Classico Direi che possiamo atterrare qui Ormai queste lobby sono pesanti Un altro Xbox Ottimo Preparatevi per la battaglia Eh Prepariamoci Non è un grande posto Questi venti No Qui c'è uno scudo Evo Livello 2 Attenzione Prima Prima Qui ci sono le leggi D'accordo Come qui ci sono i nemici di attacco Ma che cazzo dici? Che non è anche un'arma decente Vabbè Meglio che niente Qui c'è uno scudo Evo Livello 2 E che me ne faccio Mamma mia Mastiff Questo sarebbe già un passo avanti Bravo C'è un caricatore pesante e steso Livello 4 Qui c'è un caricatore leggero e steso Livello 2 Qui c'è una wingman Controlliamo quella zona Mi servono munizioni pesanti Provo ad attaccare Così? Provo ad attaccare Perché ti senti un pro player Anche tu di xbox Qui c'è un caricatore pesante e steso Livello 4 Eh sì Andiamo a morire dai Tanto ormai Grazie Apro il fuoco Sto ricaricando Ho eliminato un nemico Wow Sto a prend... Ostile vicino Eh adesso arrivo Sto ricaricando Donami la vista Sto attaccando qui Stella arc lacciata Sto aprendo il fuoco sul nemico Sto facendo danni amici Sto controllando l'aria Sto ricaricando gli scudi Sto attaccando il fuoco 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 andiamo da questa parte sto creando una zipline mi prendo qualche secondo per ricaricare vabbè non l'ho capita sta cosa posso aprire una porta nessuno si accorge che aprono una porta amici arrivare cazzo eh ho capito eh porca puttana la potessi fare anch'io la forza della natura sto usando il rampino sto controllando l'aria la facevo prima di fargli il giro attenzione ricarica scudi in corso no solo sei no sei giusti cazzo scudi perché ti do qui c'è una cella scudo ricarico gli scudi qui c'è un calcio stante livello 1 andiamo da questa parte buona fortuna buona fortuna hanno già seccheggiato tutto oh attenzione attenzione che cazzo ma che cazzo sto sparando vabbè spara a te che almeno c'hai gli dèi che poveriscono la mira che l'ho presi riferimenti extra da questa parte qui c'è un hop up non lo dice neanche perché è meglio così eccomi qui c'è un kit medico c'è una torre di lancio laggiù non piacciono le cose nuove andiamo da questa parte sto creando una zip line eh che cazzo laggiù c'è una capa sembra che bersaglio individuato ricevuto ok seguitemi se volete attaccare qui torca troia stanno sparando sto ricaricando sto controllando i dintorni sto ricaricando gli scudi sto attaccando laggiù mi sto riparando sto controllando l'aria sto controllando l'aria granata frammentazione lanciata nemico laggiù mi sto riparando nemico laggiù ricevuto sorvegliare questo punto potrebbe servire me ne occuperò io vieni a prendere il tuo regalo di compleanno sto combattendo il nemico non per me stiamo sparando quindi qui c'è uno zaino livello 3 wow livello 3 grazie porca di quella porca di quella porca porchetta crabber di merda però non è dovevamo beccare ma a me sono quello più importante non viene a noi no no eh anche lì sarebbe niente male guardando l'aria farò la mia parte proteggendo questa zona nemico individuato bersaglio individuato apro il luogo lo stile è laggiù lo sto ricaricando uso il rampino andiamo da questa parte mamma mia è anche un colpo gli è andato siamo tutti dentro l'anello bene ricarico donami la vista contatto con bersaglio questo sta laggando malissimo qui c'è un calcio per cecchino livello 2 sto controllando i ritorni mi servono munizioni per cecchino mi servono munizioni pesanti qui ci sono munizioni leggere è proprio un pathfinder figa eh sto da solo ho stabilito un contatto con il nemico a terra ho bisogno di aiuto ho bisogno di aiuto porca puttana sono sotto giro eh vabbè fai proprio schifo nooo peccato peccato in due ci hanno fatto in due ci hanno fatto mi hanno pushato uno alla volta pathfinder non ha capito per quale motivo prima pusha tutto quello che vede dopo il momento esatto in cui bisogna pushare e passare da noi passare insieme a noi è rimasto fuori a guardare il cielo mamma mia i fattori non si sono fatto abbastanza da anni Abbiamo un lavoro da fare, quindi datevi una mossa Vaffanculo Non ho spento il televisore Perché sono il mio bebbione Sicura volta, armi libere Questo è il tuo campione Ora il buon vecchio Fuse farà vedere a voi mocciosi come combattevamo una volta Una volta Questa è una buona zona di atterraggio Ce lo dici tu Intanto faccio suonare un basso Questa è una buona zona Ce l'ho già, grazie Grazie Mamma misera lenta l'acqua Porca troia Ancora Non li prendo più Se c'è un bel mastiff Se non l'avete preso voi Devo imparare ad usarlo con una merda di arma Grazie 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 Qui c'è uno scudo Evo, livello 2 60 secondi alla chiusura dell'anello Per me è una passeggiata E per voi? Penso che c'è uno scudo viola Penso che c'è uno scudo viola Sarà una passeggiata 45 secondi L'anello è lontano Qui c'è uno scudo Molizioni Qui c'è uno scudo Evo, livello 2 C'è la vabbè l'ho già volto La batterione me la lasciate volentieri Qui c'è un otturatore per shotgun, livello 3 Gli otturatori aumentano la cadenza Ce l'ho già, grazie Oh senza mani E ora a piantare L'anello si muove rapidamente Qui c'è una capsula rifornimenti estesa Qualche munizione extra Qui c'è un caricatore leggero esteso Livello 2 Oh la Rifornimenti extra da questa parte E' da poco che non ti sentivo Che infatti stavo anche da dio però vabbè Qui c'è un kit medico Ho visto il mio pezzettino di video che mostra le mie potenzialità potenti Che felice Ehi qui c'è una camera esplosiva Mi serve un OPAP Castello Faccio saltare questa camera esplosiva Rifornimenti extra da questa parte Rifornimenti extra da questa parte Rifornimenti extra da questa parte Ehi qui c'è Ehi qui c'è Ehi qui c'è C'è Non capisco un cazzo Ciao E faranno sempre schifolo Merda Lancio una stella Qui c'è un casco Livello 2 Occhio ai colpi all'altra Controlliamo se stare È divertente Ma siamo qui Nemico Ho visto qualcuno E non penso sia lì per vendere caramelle C'è qualcuno laggiù Occhi aperti Granata frammentazione Diretti Sì Che Mi interessa Mi interessa Mi interessa Mi interessa Mi interessa Mi interessa Per il momento Seguirà Sì Poi Vediamo Io Mi interessa Li Mi interessa Mi interessa Uuuuh, bello al ventiquattro qua Eh, nemico individuato, ho capito? Ma che puoi fare? E' un signore buona vicino Minoro, ci sta mettendo troppo lì E' un signore Mi curo, copritemi Cazzo, vuoi andare? Eh, dobbiamo andarcene, cazzo Ouuuh Ah, lo sentita si si sabato pomeriggio lo vuole sempre vabbè si dammelo sto stabilizzatore di merda non che ha 360 colpi forse sono un po troppi qui c'è un caricatore pesante esteso 45 secondi l'anello non è abbiamo un problema 30 secondi l'anello è vicino dobbiamo andarcene la si sparano qui c'è una capsula rifornimenti a spesa quegli idioti hanno lasciato qualcosa non siamo troppo lontani dall'anello ancora 10 secondi per cui cazzo mi dai dove c'è un amici ascoltate l'anello si sta muovendo si ho capito che cazzo ti devo dire andiamo qui andrà tutto bene ci penso io andiamo da questa parte andiamo 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 e vabbè mi è arrivato il mondo il mondo mi è arrivato e io gioco da solo io gioco da solo non è cambiato un cazzo non è cambiato un cazzo non è anche a diamante è cambiato un cazzo andiamo andiamo da questa parte tutto il danno che devo fare mi chiedo già 76 sti cazzi allora vai teniamo i blodi la maria vergine c'è sempre di mezzo lei aria acqua fai dormi no eh ti faccio tenere sveglia tutto il giorno cazzo mao mao stai sveglia giocatore in coda 71 non ci sono spariti i compagni prima trovo tre partite subito due partite subito ah sorpresa delle sorprese tieniti forte vecchio allora vai vai reggiti il mio capo al covid già oh no senti qua ah il problema è che questo capo è l'altro quello dei torni quindi quello che ho mi rompe ancora il cazzo si si allora il mio capo ha preso il covid perché è andato a fare la cosa perché ha avuto la febbre sabato allora è andato a fare sei che lì a Mazzano ti fanno il tampone ecco andato lì a fare il tampone gli hanno detto che ha il covid quindi naturalmente anche noi eravamo lì resti a a a sapere cosa fare perché sinceramente anche noi dovremmo fare il tampone visto che l'ha fatto lui però fino all'inizio esatto però all'inizio gli aveva detto il quello della nostra sicurezza lì responsabile la sicurezza non so che cazzo sia che non è da fare subito bisogna aspettare vedere se se succede qualcos'altro no? se magari peggiora e vabbè abbiamo aspettato fino a martedì mercoledì il mio collega al covid no infatti no infatti cosa è successo siccome mercoledì ha preso il covid anche il mio collega allora il capo ha deciso di fare il tampone a tutti giovedì sono andato a farlo giovedì alle 5 e mezza sempre lì a marzano dove c'è il benet dove c'è il parcheggio non so se l'hai già visto eh lì dove c'è il parcheggio c'è la possibilità di fare il tampone sono 50 euro quello rapido tipo e ci è una persona oppure 95 quello 95 quello molecolare che penso ti prendano il sangue penso ti prendano il sangue direttamente sì però si si ho fatto il mio capo che spende che spende più di 50 euro a testa fino e alla fine siamo tutti negativi quindi è solo loro due quelli che sono loro no non sono sfigati bisogna vedere cosa hanno fatto certo che si sono messi a andare in giro anche con la mascherina però insieme agli amici ora del genere eh eh basta uno che ce l'ha e glielo passo tutti fisso eh eh è un classico figo non 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 c'era proprio passato eh e quindi siamo a rischio siamo a rischio perché adesso il mio collega deve stare a casa 15 giorni in quarantena e il mio capo deve stare a casa 15 giorni in quarantena vedi che gioia vedi che gioia vedi che gioia non 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 ok devo farlo fatto adesso mi spippetto una bella cigaretta figa è stata durissima arrivare davanti durissima mamma mia che gente scarsa che ho trovato dopo alcune partite le ho giocate male anch'io però non 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 essere seminato e non 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 si buono per lei 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 non so se può licenziarlo non so se può licenziarlo non so se può licenziarlo perché con la zona rossa così non so se si può non so se può licenziarlo eh non so se funziona o non so come funziona non so se può licenziarlo non so se può licenziarlo non so se può licenziarlo schermatamente schermatamente quello non so se può licenziarlo quello non so se può licenziarlo si ma è il quarto lavoro che cambia ma è già fortunato di trovarli e già li perde ma è fortunato di trovarli già li perde è un coglione si allora ti affidi le agenzie ma già affidarti le agenzie vuol dire che qualcosina del tuo stipendio già va a puttana perché vale agenzie non so quanto sia furba sta idea me l'hai già detto abbastanza ma vai vai io non ho problemi no mettere il mio nome no 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 E' ora di darci un taglio Vabbè, assolutamente no, punto No, zero, infatti Non devi neanche spiegare il motivo Non sei parentato, punto Cosa sbagliata Guardatevi, sembra che io sia il Jumpmaster Guardatevi Andiamo lì Canta leggera Guardatevi Ehi, guardatele con me Il prossimo anello non è vicino Ehi, guardatele con me Buone Non puoi lamentarti Ehi, guardatele con me Non ti puoi lamentare E' più morbido o più duro? Ah, buono Meno cal Ah, buono Ehi, guardatele con me 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 non so mai fa il cazzo il campione è caduto capsula assistenza in arrivo, andiamo alla zona di atterraggio lavoravo in un lavaggio controlla i dintorni 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 è un amiettato di svegli, lo capito no direi proprio di no 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 se si impegna Teo se si impegna Teo sono Bloodhunter potete chiamarmi Bloodhunter andiamo a portare a termine il lavoro certo non ho capito vinceremo insieme sempre fedeli o morti vediamo questo è il tuo campione avete già sbottato i vostri cari eh certo figa di farti i cazzi tuoi ma sei fuori tu ci lanciamo ma si fotta andiamo da qui a capire il di fuoco ricevuto ricevuto oh ma gli sparate eh porco dio io porco per questo non ci faranno nemmeno un graffio adesso li appunto non preoccuparti te la chiaverai non preoccuparti te la chiaverai non preoccuparti a rafferci a non che mi non vabbè �로 cipolloro qui c'è una mozza big non correte sto controllando i dintorni bisogna il treno sta quasi per scadere qui c'è un hop up turbo compressore mi serve della salute qui c'è uno scudo evo livello 2 ehi fratelli ci sono munizioni per cecchino ehi fratelli qui ci sono munizioni per cecchino ehi fratelli ci sono munizioni per cecchino ehi fratelli ehi fratelli ehi fratelli ehi fratelli ehi fratelli ford ehi fratelli ehi fratelli ehi m Dio cane, Dio porco, straordinario i quali non possono fare niente, quello è lo stato. Buu... Grazie. Ora è una scioppata pesante questa. M16 Ace Ruffi. Sopravviveremo insieme. Dai, sopravvivi che è meglio, va? Sopravviveremo insieme. Sopravviveremo insieme. Sopravviveremo insieme. Sopravviveremo insieme. Sopravviveremo insieme. Sopravviveremo insieme. mi stanno facendo un momento c'è un uomo di decisione attenzio controllando i vittori attenzio la giuva girata a frammentare mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scopi sto ricaricando gli scudi granata termine lanciata della arca lanciata ricarico gli scudi sto ricaricando una zipline sto controllando l'aria scusando il rampino buono grazie oddio figa però ci guadagni dopo fantastico già dentro l'anello qui c'è un calcio per cecchino livello 3 è differente figa la compra nota ci vede per divertimento l'aria abbiamo un nuovo leader uccisioni qui c'è un flatline occhio al nuovo leader uccisioni amici grazie la tua riconoscenza è dono credito normale è normale che le macchine aiutano ignora andiamo da questa parte camera esplosiva da questa parte qui c'è un radios qui c'è un M-Loc qui c'è un R-99 cosa? ho bisogno di munizioni per cecchino rimane a metà delle cose ignorante il campione è appena stato eliminato qui c'è uno starinistrato in casa livello 2 grazie la tua riconoscenza è dono credito qui c'è un'optica distanza ravvicinata qui c'è un'optica qui c'è un'optima giusto così che io dai invece c'è qui c'è un caricatore pesante stesso ma qui c'è un M-Lino qui c'è un'optima capisco capisco come se capisco qui c'è un'optima replicatore in arrivo replicatore in discesa una benedizione degli dei ho individuato il prossimo anello seguite la mappa qui c'è un M-Lock potrebbe esserci qualcosa da questa parte potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte qui c'è un caricatore pesante stesso livello 3 grazie qui c'è un kit felice oggi saremo entrambi benedetti dagli dei qui c'è uno zaino livello 2 buono qui c'è un kit felice qui c'è un accello a scudo bella intasada via non ci credo dio cane mi han buttato a terra di nuovo figa ma che cojoni dio porco scudi viola scudi oro dio cane no no vale vale no non è quello guarda che cazzo eh si ciao dio porco dio porco dio cane spari all'inizio poi non sparano più figa ma va un figa va testa di cazzo affanculo tanto non perdo punti me ne sbatto il cazzo ancora sono sei e mezza